Sì, sì, senza altro. L'obiettivo era proprio questo. Speriamo che in parte ci siamo riusciti. Io mi auguro che nelle prossime edizioni ci sia la possibilità ancora di più di migliorare e di far sì che questo che dici si possa tradurre poi in realtà. È vero, quello che hai detto, ci sono state una serie di associazioni comuni, enti, che hanno collaborato per farsi questo. Questa è la cosa più bella che ci ha inorgoglito, proprio questa partecipazione, questa unione che ha fatto la forza. È vero, mi auguro che sia sempre così.